Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come riparare le antenne dei ricevitori a 2.4GHz. Dopo una caduta è possibile che le antenne si dannegino o peggio vengono tagliate da un'elica. Comunque non preoccupatevi, le antenne si possono riparare. Tutto quello che ci serve è una taglierina ed un calibro. Il calibro è molto comodo e preciso, ma se non lo avete è possibile usare anche un metro normale come questo in carta o quello che avete voi. Le antenne da 2.4GHz sono fondamentalmente un cavo coassiale che è composto dal filo principale che ha l'interno di questa protezione in plastica, poi abbiamo la terra che fa da scudo e infine un'altra protezione in plastica. Per riparare la nostra antenna dovremmo riportare il filo interno, cioè la parte esposta, a 31,2mm. Non è necessario essere super precisi, possiamo sbagliare anche di qualche millimetro. 31,2mm infatti è la misura per avere il raggio d'azione massimo, un millimetro in più o uno in meno non influisce in maniera percettibile sulle prestazioni del ricevitore. Prendiamo il calibro, segniamo 31,2mm e posizioniamo il filo. Appoggiamo la taglierina e ruttiamo il filo applicando una leggera pressione. Attenzione a non premere troppo altrimenti rischiate di tagliare tutto il filo. Dopo aver tagliato la prima parte possiamo sfilarla. Come vedete ora abbiamo la terra esposta che andrà rimossa anch'essa. Allarghiamo leggermente il filo, lo spingiamo indietro e facciamo questo movimento fino a quando non si taglia. Ruotiamo, mandiamo a destra e a sinistra. Ruotiamo. Ecco fatto, l'antenna è pronta all'uso. Delle volte può capitare che l'antenna sia troppo corta e non sia più possibile ripararla. In questo caso bisogna acquistarne di nuove, vi lascio il link in descrizione su dove comprarle. In fase di acquisto fate attenzione al connettore. Questo più grande va bene per il Flysky X6B, mentre questo più piccolo va bene per l'FRSKY X4R. Questo era il mio tutorial su come riparare le antenne dei ricevitori a 2.4GHz. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Grazie per aver guardato il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di iscrivervi al canale e di iscrivervi al canale.